Oggi non andiamo a scuola? No tesoro, oggi la mamma lo sa sempre molto bene. Ci può accompagnare papà? Papà è già uscito. Stamattina è dovuto andare a lavorare un po' prima del solito ragazzi. Comunque, adesso voi mangiate e poi la mamma si sdrai un attimo e noi guardiamo insieme i compiti. Ok? Arrivo subito. Ama i vostri bimbi e non ti picchia mai davanti a loro. La violenza assistita riguarda i bambini, che sono spettatori inconsapevoli o vittime passive della violenza domestica o dei suoi effetti sulla madre. L'aggressività fa parte della natura maschile, sono tutti uguali. Questo stereotipo è molto diffuso e pericoloso, perché afferma la posizione di potere dell'uomo nella famiglia e ne giustifica il comportamento violento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.